Qual è la situazione? La situazione è critica, la multinazionale canadese Showcore tramite i referenti locali che guidano la società non ci sta dando risposte, è da un anno che siamo in cassa integrazione e gli operai sono in attesa di risposte, le difficoltà ci sono sul mercato, sicuramente le conosciamo, aggravate dal periodo Covid, però è opportuno che la società dia delle prospettive a queste famiglie, a questi operai, ci aspettiamo che arrivi il momento della presentazione di un piano, cosa intendono fare? Perché non lo sappiamo anche noi, il settore è sicuramente un settore difficile, il settore del petrolio, però non c'è solo il petrolio, c'è il gas, ci sono altre materie importanti come l'idrogeno, bisognerebbe investire in questo settore. Adria è stato e deve rimanere un sito strategico per questo gruppo, ci aspettiamo che le risposte arrivino quanto prima. La situazione è pesante, sono più di un anno che l'azienda in cassa integrazione non stia lavorando, se non la minima manutenzione e via dicendo, qualcuno più fortunato, qualcuno meno, riesce a fare qualche ora in più, ma la maggior parte sta facendo cassa integrazione a zero ore e prospettive non se ne vedono, la cosa non è chiara e questo crea ansia e problemi. Di più la situazione in generale è difficile perché anche per tentativo di ricerca di lavoro e via dicendo sicuramente non è facile, non ci sono aziende che stanno cercando, il territorio non offre grosse possibilità e la situazione è veramente complicata. Da quanti anni lavora per questa azienda? Quest'anno sono 21 anni e probabilmente è l'ultimo, gli ultimi mesi che ci troviamo a lavorare qui. Noi speriamo di no, siamo qua per portare le nostre dimostranze, sperando che ci sia una soluzione, anche se non stiamo vedendo segnali positivi. C'è tanta preoccupazione? Sì, preoccupazione sì, sicuramente sì, anche perché non ci sono grosse alternative sul territorio e si fa fatica a trovare un'occupazione alternativa. Io dico una cosa che è un anno che siamo messi così, non abbiamo nessuna risposta di questi canadesi che sono venuti in Italia sia a portare del lavoro, però ci hanno portato a questo livello. Noi abbiamo dato il lavoro a questa città superiore a 200 persone, era un indotto da fuori di testa e ci hanno portato a questo livello qua a manifestare e arrivare a questo punto qua. Questo è il mio collega, ci stanno prendendo in giro perché essendo una multinazionale non so cosa vogliono fare, non ci danno risposte definitive, tirano avanti, ci giocano sopra con il discorso Cassa Covid, quindi tirano avanti e noi pensiamo che vogliono diminuire i costi fissi, lasciare a casa la gente per dopo prendere le ditte esterne per far lavorare. Noi adesso ormai abbiamo una città, io ormai ho 25 anni che lavoro lì e ti trovi in una situazione a 52 anni che adesso dov'è che vai in cerca di lavoro. Questa è la situazione nostra, adesso cerchiamo di mangiare. Siamo tutti a questi livelli, abbiamo passato tutti i 50 anni lì, praticamente è una vita che siamo lì a lavorare, arrivano loro, ci hanno portato queste condizioni che non è giusto per la nostra città, anche tutto l'indotto che portava questo lavoro, tante ditte esterne lavorava, di tutti i tipi, saldatori, muratori, di tutti i tipi. Grazie. Grazie.